Pittura, scultura, design e architettura nella mostra iconica lessita nelle sale di Villa Paris di Roseto, visitabile fino al 31 ottobre. L'iniziativa fornisce l'occasione per immergersi nelle opere d'arte che con il manifesto e la pubblicità hanno segnato la produzione artistica del Novecento, trasmettendo sull'immagine la traccia e la sintesi del XX secolo. Si tratta di una selezione di 70 manifesti su 456 di proprietà del Comune di Roseto, parte di una preziosa collezione che ha contribuito a creare un patrimonio storico, culturale e didattico per ricomporre le principali tappe dell'arte moderna. Si può dire che si realizza un sogno, covato, nascostamente, per almeno 25 anni, da quando questi manifesti, così come sono adesso, arrivarono alla Villa Comunale di Roseto. 456 manifesti non potranno mai essere esposti tutti insieme, occorrerebbero spazi misurati e poi tutto sommato non avrebbe senso, perché questi manifesti, esposti in piccole parti, come si sta facendo rotevolmente a Villa Paris, danno la possibilità di leggere i momenti storici, i momenti artistici, di cogliere quelle che sono anche le iniziative prese dai singoli musei per quanto riguarda l'arte del Novecento, l'arte contemporanea. La mostra in due mesi vuole essere un'occasione imperdibile per insegnare il valore artistico, storico e culturale di un'Europa che ha segnato con l'arte del segno del colore dell'immagine la produzione artistica del Novecento.